Musica E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNet91 Ci ritroviamo in Tropico 5 Allora nell'ultima puntata ci siamo lasciati con la costruzione di una nuova biblioteca Eccola qui Poi abbiamo costruito anche un nuovo campo Questa volta la coltivazione e il cacao E dobbiamo esportare 3000 di cacao Trovare un giacimento d'oro Presidente, dopo esserci tagliati mille volte con la carta l'abbiamo inventata Ora potremmo usarla per stampare le informazioni più importanti Le interviste con i tropicani più influenti I tuoi editoriali politici Ogni abitante del Tropico potrà dire la sua E puoi anche andare in bagno da adesso in poi sarà molto più confortabile Ok, ok Allora abbiamo scoperto anche a cosa serve la carta Questa è già una cosa molto buona Abbiamo 95 cittadini 23% ci appoggiano Abbiamo meno 2265 Adesso 2300 Meno di denaro Adesso sono arrivati qualche soldicino così Perché siamo quasi arrivati a pari E dobbiamo ancora dichiarare l'indipendenza Per dichiarare l'indipendenza Bisogna avere il supporto di più del 50% della popolazione Come vedete in basso a sinistra Dove c'è il pollice in su Il like Spero lo mettete anche in questo video C'è il 23% dei 96 abitanti Che appoggiano Ovviamente l'indipendenza E possiamo dichiararla al 51% Quindi attenzione Allora vediamo cosa ci dice adesso Dai Vediamo Siamo più vicini alla creazione dell'arma segreta della rivoluzione Prima di procedere oltre però dovremo sviluppare diverse tecnologie Come sai il progresso tecnologico non avviene in modo spontaneo E' necessario sviluppare un'idea prima di passare a quella seguente Per esempio Come ti aspetti di poter arrivare alle assi se prima non ricerchi la pala? Ok dobbiamo ricercare 7 tecnologie e noi lo faremo Allora per ricercare Grazie ai tuoi sforzi il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore Ok Come segno di gratitudine per il tuo sostegno al movimento I rivoluzionari ti hanno offerto il loro aiuto Ricorda che devi portare il livello di approvazione sopra il 50% Come vi ho detto poc'anzi Per poter dichiarare l'indipendenza Ok Aumentando il numero di rivoluzionari sull'isola renderai molto più facile questo compito Allora Cosa scegliamo? Importare dei rivoluzionari Ovvero tre cittadini istruiti Nuove rotte commerciali con i contrabbandieri Oppure 4.000 No I rivoluzionari Tre cittadini istruiti Dai Noi leader della nazione detropico Nella necessità di trasporre in parole la volontà del popolo tropicano Nell'ambito del rispetto delle leggi dello Stato E del mantenimento dei valori universali e tropicani di libertà Pace Amore Comprensione Siesta E conti svizzeri segreti Ah bene Firmiamo la prima costituzione detropico Ok Maggior sostegno per l'indipendenza Permette di emendare la costituzione una volta Una volta indipendenti Ok Allora vediamo un po' Possiamo esplorare ancora nuove zone Così sblocchiamo nuove parti Le nuove parti da sbloccare sono quelle dove c'è la nebbia Nel senso se noi esploriamo questo pezzo Ci ritroveremo un nuovo pezzo per poter mettere nuove cose Io direi di andare qui Sono curioso di vedere qui cosa c'è Abbiamo scoperto il nastro adesivo rosso Sta bene con tutto e non è mai troppo La gente lo adora Ci sono lunghe file per acquistarlo Sembra quasi che cresca guidato da una volontà propria Ok sbloccati gli editti Censimento, sviluppo urbano e concessione edile Bene Congratulazioni governatore Siamo quasi pronti a utilizzare l'arma segreta della rivoluzione Ok La nostra arma segreta sono le parole stampate e distribuite alla massa È il momento di stampare un giornale Così potremo diffondere ovunque a tropico le idee della rivoluzione Accettiamo bene così e vediamo adesso cosa succede Allora vediamo cosa possiamo costruire Abbiamo il ranch che genera prodotti animali carne, latte e lana a seconda del tipo di ranch Io direi di metterlo sempre qui vicino perché comunque il ranch è una parte di campagna dove ci sono gli animali Quindi direi di fare latte e carne e il bestiame Sì bestiame dai così E ci creiamo questo bel ranch Costruzione rapida anche e solo 800 Ah non male dai costruzione rapida Cosa sta succedendo ragazzi? Si sta battendo un tornado Oh mio Dio No Cosa devo fare? Cosa devo fare? Adoro tropico il tramonto Sì a voglia come l'adori al tramonto Oh mio Dio adesso ci distrugge qualcosa Eh tre cittadini sono andati via O morti o perché sono scappati da questa città Da questa città poi Ci sta distruggendo tutto Ci sta distruggendo tutto Io stavo lì bello a costruire il ranch E qui dobbiamo rifare tutto da capo No Sì ma basta Te ne puoi andare grazie Mamma mia La distruzione totale ragazzi Niente non finisce più Te ne vai Ma non ci posso creare Oh è finito Sono tornato in piena forma Ora posso predire piogge di bestiame Capanne Immobili sull'intera isola Con la massima precisione Ecco l'elenco dei danni Ok Cittadini uccisi tre Bene Edifici distrutti Era la piantagione Che serviva a sfamare il popolo E nulla da fare E ci ha inviato duemila Per aiutare alla ricostruzione La comunità internazionale Ricostruiremo tutto Ragazzi che devo dire Che devo dire Ecco qui che sta di nuovo ricostruendo tutto Nel frattempo Io stavo facendo qui Bello il mio ranch E nel frattempo Qua succedono catastrofi Incredibili Allora ci andiamo a mettere la strada Così bello Possiamo andare Dappertutto Ok strada messa Dopo mezz'ora Ci ho spregato 15 minuti Per capire come mettere la strada Perché la mettevo All'entrata del ranch Ma mi diceva che non c'era strada E invece doveva solo aggiornare Mannaggia a me Sua maestà nella sua grazia Ha inviato il tuo rimpiazzo Ma costui è riuscito a farsi rapire Da dei pericolosi pirati Durante il tragitto Io non c'entro nulla O almeno Non ho lasciato tracce Sua maestà Mi ha incaricato Di presentarti questa lettera Di encomio Per ciò Che sei riuscito A compiere Nel nome Sì lo sappiamo questo Allora Prolunghiamo il nostro contratto Visto che eravamo oramai A pochi Mesi Dal Addio Quindi adesso abbiamo Due anni e cinque mesi Meno male Ci siamo salvati giusto giusto Ragazzi Ci siamo salvati Giusto giusto Allora adesso avevo in testa Di Creare l'edificio per Il giornale Dove Ovviamente Pubblicheranno Notizie E cose Del genere Lo mettiamo qui E poi ci creiamo La strada ovviamente Visto che me ne dimentico Sempre ragazzi La costruzione Del palazzo subacqueo Di sua maestà Ha avuto inizio La corona Ha bisogno Dei tuoi raccolti Per finanziare Questo grande Progetto Sua maestà Richiede un totale Combinato di 10.000 Dei tuoi raccolti Da reddito Per i rivoluzionari Questa cifra È troppo elevata Vorrebbero che tu Ne inviassi Soltanto La metà I monarchici Invece Preferirebbero Che ne inviassi Il doppio A chi darai retta Allora Invia quantità Richiesta Invia quantità Richiesta Dai normale Inviamo la quantità Che ci hanno richiesto Dai Ammira il potere Di quest'arma Rivoluzionaria Ora Attiva È pronta All'uso Ammira la potenza Della prima pagina Dobbiamo pubblicare Un articolo Vigoroso Che espliciti Le nostre Intenzioni Ritengo Che una sola persona Possa comporre Un testo Adeguato Me stesso Assegna Qualcuno Il compito Di scrivere Il pezzo Per la prima pagina Allora Assegna L'articolo A Evita Vasquez Ovvero A lei E aumenta Il sostegno Dei rivoluzionari Assegnalo A Lord Per sei mesi Di prolungamento Del mandato Ci vorrebbe Assegna L'articolo A un membro Della casata No no A lei A lei Dai Anche se rischiamo Perché manca Un anno E undici mesi Stiamo molto Ma molto Attenti Quindi ragazzi Io penso che per questa puntata È tutto Oramai Il livello di approvazione È arrivato a 43% Adesso Incominciamo Un bel po' A ingranare Quindi Le prossime puntate Saranno un po' Più lunghe E un po' Più Ragionate Visto che All'inizio Per costruire Tutte queste cose Ci vuole Parecchio tempo Registro ormai Da un'ora e mezza Questo Questo video Devo cercarlo Di farlo arrivare A dieci minuti Che in questi dieci minuti Speriamo Si concentri Bene il succo Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete E commentate Ciao a tutti Da pierdalkenheit 91 Gabriel Riesce a stoppare Attenzione a Gabriel Jesus Gabriel Jesus No 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 Grazie a tutti.